Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Bentornati nella nostra rubrica di bioetica. Di recente tre associazioni culturali hanno rivolto un richiamo ai farmacisti relativamente all'obiezione di coscienza rispetto alla vendita della cosiddetta pillola dei cinque giorni dopo Ella One di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata. Questo richiamo è molto interessante perché in realtà è un richiamo che evidenzia una serie di aspetti che in morale e in bioetica non possiamo tralasciare. Innanzitutto va al cuore del funzionamento di questa pillola che come sappiamo ha degli effetti che non sono solo contraccettivi ma che abbiamo detto secondo alcune condizioni, in particolare se viene assunta in un certo periodo, nel periodo ovulatorio del ciclo fisiologico della donna può avere degli effetti che vanno ben oltre appunto l'effetto contraccettivo in quanto superata una certa soglia con l'avvicinarsi dell'ovulazione questa non può essere più bloccata quindi abbiamo detto che in effetti il funzionamento è più che altro antinidatorio e quindi evidentemente abortivo. tanto che relativamente a questo il presidente nazionale dell'associazione medici cattolici italiani Filippo Boscia aveva anche espresso tutto il suo diniego per la decisione presa dall'AIFA appunto relativamente al rilascio, alla vendita senza ricetta medica di Hello One alle minorenni. Questo dicevo appunto ci mette subito in chiaro ancora una volta l'effetto di Hello One di fronte al quale appunto chiaramente è in gioco la vita umana nascente tanto che relativamente a questo c'è un'istruzione, un documento del 2008 che si chiama Dignitas Persone della Congregazione per la Dottrina della Fede che infatti metteva già in luce il fatto che non esistano solo contraccettivi ma anche tutta una serie di mezzi per evitare la nascita di un figlio che hanno delle proprietà ripeto non anticoncezionali cioè atte a evitare il concepimento ma anche come l'abbiamo chiamate in altre occasioni sempre su questa radio intercettive o se non addirittura appunto contragestative. Allora chiaramente questo comporta un'obiezione di coscienza da parte del farmacista cristiano che può sollevare appunto seri dubbi relativamente alla vendita di prodotti del genere un po' come appunto l'obiezione di coscienza riguarda solitamente gli operatori sanitari, i medici ma anche tutti coloro che strumentano gli interventi chirurgici per esempio relativamente all'interruzione di gravidanza proprio perché chiaramente può essere in gioco la vita umana. Sappiamo bene tra l'altro che il farmacista non è solo un mero venditore ma è un professionista che conosce molto bene ciò che vende quindi chiaramente questo può a maggior ragione sollevare in lui conoscendo il funzionamento di certi principi attivi può sollevare in lui seri dubbi di coscienza. Dicevo questo richiamo, questo invito da parte nello specifico di tre associazioni sono il coordinamento nazionale giustizia et pax, culturacattolica.it e l'osservatorio internazionale cardinale Vantuan sulla dottrina sociale della Chiesa proprio ripartono da questo aspetto quindi è chiaro che oltre al funzionamento questo richiamo ci aiuta anche ancora una volta a riflettere su come il cristiano si debba interfacciare di fronte alle cosiddette leggi ingiuste perché noi sappiamo appunto che dal punto di vista dottrinale si chiamano ingiuste quelle leggi che si oppongono al bene comune e quindi appunto chiaramente essendo un vero e proprio attentato contro i diritti fondamentali della persona che vanno dal diritto alla vita ma alla libertà politica, religiosa o contro istituzioni, rapporti sociali fondamentali come il matrimonio, la famiglia eccetera chiaramente sono evidentemente leggi ingiuste che non possono in alcun modo obbligare anzi possiamo dire di più che c'è l'obbligo morale di non seguire queste disposizioni e comunque di non accettarle e un cristiano è chiamato anche a dare una testimonianza da questo punto di vista e quindi di manifestare il proprio disaccordo è un vero e proprio potremmo dire dovere morale da parte nostra e di cercare di cambiarle appena questo sia possibile quindi questo mi sembra molto importante perché anche ci aiuta a capire che non è sufficiente il dovere di coscienza si estende alla collaborazione che sia materiale ma anche formale quindi come dire questo ovviamente supera sempre la legge civile anzi chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato e questo relativamente anche a qualsiasi possibile danno sul piano legale anche professionale faccio l'esempio del farmacista un farmacista non può essere licenziato perché segue la sua coscienza tanto che poi chiaramente è stato dato anche il supporto da questo punto di vista anche a livello legale perché è molto probabile che proprio perché a volte quando si tratta spesso di difendere dei valori che appartengono alla dottrina cattolica molto spesso ci sono ancora più abusi sebbene ripeto qui noi ci collochiamo su un piano che veramente non è tanto di fede quanto di come dire umanità perché è evidente che questa libertà di coscienza appartiene anche ripeto come dicevo prima al bene comune quindi al vivere comune degli uomini è un valore umano eppure sappiamo bene che quando si tratta di valori cristiani spesso non è così e quindi è stato offerto anche come dire l'appoggio per esempio dei giuristi per la vita o comunque ad associazioni che si impegnano in questo senso a offrire anche un supporto dal piano giuridico proprio perché dicevo evidentemente questa obiezione di coscienza deve essere garantita ricordo per concludere che anche il compendio della dottrina sociale della chiesa mette molto chiaramente in luce che il cittadino non è obbligato in coscienza a seguire le prescrizioni delle autorità civili laddove queste siano contrarie alle esigenze dell'ordine morale ma appunto anzi deve essere assolutamente invocato il rispetto della libertà su questi punti più di altri dove invece la libertà viene invocata come una mera autodeterminazione senza limiti che però non tiene conto dei valori fondamentali della persona umana e quindi della relazione tra le persone e con un riverbero evidente anche sul piano del bene comune io mi fermo qui vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata del diario di bioetica oggi c'è Radio Roma Libera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org